Ciao a tutti caciotti e benvenuti in questo nuovissimo vlog Oggi sono a Londra Non so di preciso cosa farò Però se farò qualcosa di interessante Lo immortalerò in questo vlog Dovrei incontrarmi con un ragazzo che ho conosciuto Qualche anno fa altro in uno comics Poi lui si è trasferito qui a Londra Mi seguiva, non so se mi seguo ancora Però insomma ci sentiamo ogni tanto su Instagram E ho detto cacchio vado a Londra Ti è che conosco a Londra Conosco delle persone che conoscevo prima di Youtube Con cui andavo anche a scuola tra l'altro Però pensavo fosse una cosa figa A parte il cantiere Incontrarmi con lui Quindi ora sto andando alla stazione di Waterloo Che è tra l'altro vicino al mio hotel Vabbè comunque dai carina Londra Piccolina però è carina Caruccia Ho visto città migliori però caruccia Ora io lo dico per quelli che non lo sanno Ma a Londra guidano dalla parte sbagliata della strada Un po' come in altre parti del mondo Anche in nord Europa se non sbaglio ci sono alcuni paesi In cui guidano a sinistra E quindi quando attraversi la strada devi fare attenzione Ora vi faccio vedere che quando ci sono gli attraversamenti pedonali C'è scritto per terra Prima guarda a destra Poi guarda a sinistra Perché noi invece in Italia facciamo il contrario E anche in America fanno il contrario Nella maggior parte del mondo fanno il contrario Però vabbè Vi faccio vedere Attraversamento pedonale E giustamente non c'è scritto niente per terra Però vedo che lì c'è scritto qualcosa Quindi ora che è verde Vi faccio vedere Guarda a destra E io c'è scritto quello a sinistra E io intanto là in fondo Vedo quello che mi interessa Vedo il London Eye E il mio hotel dovrebbe essere davanti il London Eye O dietro Non lo so Vabbè Da qualche parte lì vicino Io spero che mi sentiate C'è un casino boi a Londra Più bello il Domo di Milano ragazzi Non venite a Londra Più bello il Domo di Milano Più bello il Domo di Firenze Più bello il Colosseo Guarda qua Carino eh Nel senso Ovunque ti giri c'è qualcosa di figo Però vuoi mettere Col kebabaro sotto casa mia? Dai su Non scherziamo Ok Sto Traversando uno dei tanti ponti Che non ricordo mai nessuno dei nomi Qui c'è il London Eye C'è l'autobus a due piani Tante cose belle Parlamento di là Io non ho ben capito Dov'è il mio hotel Però dovrebbe essere Tipo Quello Non voglio spoilervi niente Perché vedrete Nell'unboxing della camera Però Dovrebbe essere figo Quel gabbiano sta ragionando Sul senso della vita Guarda Si sente perso E sono In hotel Ma La mia camera non è ancora pronta E non ho ancora la chiave della camera Tra l'altro Mi ha detto Sì Vatti a rinfrescare la faccia E sono finito in una palestra E non so dove andare Ok Mi sciacquo la faccia ed esco va Siamo su Millennium Bridge Ci siamo Ci siamo Incontrati I presentati Che noi non lo stanno in casa Io sono Abdel Piacere E dove è che stiamo andando Stiamo andando ora Allo Che è quella a punta Chiamata Scheggia La Scheggia Dove l'ingresso costa Boh è quasi 50 euro E Però Ci dovrebbe vedere tutta Londra Quindi Visto che Fino a stasera Che ho Approntato raga Un biglietto del Fantasma dell'Opera Che è uno degli show più belli Suggeriti da vedere qui a Londra Ho detto Eh andiamo a fare un giro E infatti andiamo a vedere l'onda dall'alto Così poi ci buttiamo E cos'altro si vede Anche da qua Ah no Eh no pensavo Si vede qualcosa Vabbè Da qua non si vede più bene Però è lontanuccio Allora mi avevo detto Vabbè andiamo a piedi Eh Fa pure caldo stranamente È un pazzo Mi sono levato la felpa a tutto C'ho la medetta di Klaus A caso Ecco Ho pure volato la felpa Grazie Vi aggiorniamo Probabilmente prenderemo la med Qui Qui Qua c'è lo shard E siamo ancora belli lontanucci Cioè la metro non ha senso prenderla Perché Cioè Non ha senso Cioè è questa Ci sono una fermata Non è che vi vai in un'altra parte Avrebbe senso forse prendere l'autobus Però è un casino E quindi Vabbè nemmo a piedi Nemmo a piedi Siamo salutari Bravi Poi oggi c'è anche questa cosa Memory Walk Che non so Ah Alzheimer Ti vuoi È pieno di tutta sta gente Che cammina penso Per accogliere fondi Contro l'Alzheimer Cioè Per la ricerca Io non so suonare manco normalmente la chitarra Quindi Ok ragazzi ci siamo Siamo in fila Puoi entrare 30 pound The view from the shard Adulto Sopra si può comprare anche lo champagne Quindi Se sei studente Se sei studente Invece 25 pound Contiamo Ma non è un 72 piani C'hanno fregato Ah forse c'è un altro ascensore Forse c'è un altro ascensore infatti E questo va 68 Dai Questo è che tipo Non c'entriamo qua Andiamo andiamo Ah bisogna stare con le scale Andiamo Sono poco moderni qua a Londra Infatti la Dubai ti porta fino al 138esimo piano Eh Sì Non mi ricordo di preciso Però Un piano infinito Ok ragazzi Siamo arrivati in cima Questa è la vista Direi non male Non è paragonabile a Tokyo Però dai Sei stato bravo Sei stato bravo Sei stato bravo Preso anche un calice di champagne Cambio videocamera ragazzi Così vedete un po' tutto Ci sono gli altri grattacieli Quello dello Sky Garden Però bisogna prenotare Per andarci Se vedete bene Prova a zoomare Si vede il giardino che c'è dentro E la gente C'è acqua quella C'è dell'acqua dentro Possibile No è il riflesso del Tamigi Per forza Eh ok Vabbè Comunque La nave Si C'è una nave Si che non lo vedi il riflesso No Eh ragazzi Vabbè dai Carino Ho visto di peggio Ovviamente Volevo spiegare Che quando io dico Caruccio Anche nel video di Firenze Tantissimi hanno detto Ma come Caruccio Firenze è una città più bella del mondo Ma lo so ragazzi Io sono ironico Però Cioè va bene Firenze Va bene Londra Però siete mai stati a Prato della Valle Non per dire Non per dire Ma Prato della Valle merita Ragazzi ci sono le indicazioni di quello Che si vede E c'è anche il London Eye E noi siamo partiti da London Eye Guardate quanto è lontano Cioè È là in fondo Ci abbiamo messo Non lo so Quasi un'ora ci abbiamo messo Quindi L'abbiamo quindi anche pranzato Bello E ho avuto anche culo oggi Che ho beccato una giornata calda Sì Che fino a qualche giorno fa Facciamo pure il freddo Domani chiamano 10 gradi Quindi È proprio È la fortuna di Suri questa Abbiamo deciso di Uscire È stato bello Aspetta Però Vai Abbiamo scoperto una cosa ragazzi Cioè Bellissimo Bellissimo London Bridge È London Bridge questo Comunque Ci sono delle viste Niente male C'è il Tower Bridge Là in fondo Ci sono tanti bridge Alla Londra Di qua Altra cosa Che è successo? Sono sparito Ah Anche qui Non male Carucci Stavamo pensando A fare un giro in barca Ma potenzialmente Potrebbe essere Il tempo sprecato Quindi Andremo in giro In metro E in bus Ho deciso Un traditional Fish and chips Ci hanno servito In 0,2 secondi Sono già tutti pronti E che Che ci mettiamo Maionese No Ketchup No Cos'è questa? Questa cacchio è? Senap Sì No Mustarda Poi il vinegar Non già Sì Quello là Poi ci metti il sale Vai Vai È cattivissimo Certo Poco è A posto A posto Fish and Stiamo facendo In breve ragazzi Stiamo andando al museo È un museo gratuito Quello di Schenfe Science Museum Ci dovrebbe essere la fila Vediamo quanto è lunga Se c'è tantissima fila Cambiamo itinerario E facciamo qualcos'altro Altrimenti Vi beccate un po' di scienza Sì Ma comunque saremo a ottobre Cioè io direi Che forse Forse Stiamo esagerando Però Vabbè Dicono che sono avanti In Inghilterra E beccatevi questa cultura Zè Beccatevi la cultura Tutta in faccia Guarda Guardatevi È tutto oscuro Non vedrete niente Sì andiamo Eh ma che figata Sì È lo scritto Di ogni famiglia L'hanno messo qui Ciao E va bene Prendiamo una scala mobile Vediamo dove ci porta Ah Ok Ottimo Bello Sì Ciao Ciao Vediamo com'è dentro È una palla di alluminio Praticamente Vabbè ragazzi Ci sono anche i fossili Ci sono anche degli animaletti Questo ragazzi È il tipo di animali fantastici Quello che ruba le cose Infamello Infamello Qua c'è il teschio Del mio cagnolino Povero No che figata però Ragazzi ora siamo all'interno Di un simulatore Di terremoti Qua siamo in Giappone Come sapete in Giappone Noi ci andiamo sempre E fanno terremoti Perché ogni giorno Stiamo facendo la spesa E dovrebbe tremare il pavimento E tutto ciò che ne consegue Vediamo Attenzione Attenzione Queste sono videocamere reali Ci stiamo tenendo Attenzione Attenzione Trema tutto Attenzione Arca vaca Sta tremando il pavimento Ehi Ehi la madonna Ah Ok Ottimo Bello E là non cade niente Va bene Grazie Purtroppo ragazzi Sono fuori di casa Da questa mattina Alle 5 Quindi non ho Moltissima batteria E non sto vloggando Tanto qua dentro Ma Cioè Che figata è Bellissimo Sì questo è il cugino Del mio animaglietto Di prima Si chiama Bobby Senior È una figata Raga è gratis Sto posto Vorrei ripeterlo E qua accanto C'è invece Quella della scienza E anche quello è gratis Ragazzi Sono passate diverse ore Dall'ultima clip Ma purtroppo Non avevo Più carica Nel cellulare Sono arrivato In un albergo Ho provato la stanza Sono in questo momento Nella stanza Ma vedete In un altro video Sono andato Al Al teatro Di sua maestà A vedere The Phantom of the Opera Che mi hanno fatto Giustamente notare Che non è un opera È un musical Però è un mix Delle due Perché nel senso Cioè Cantano molto bene In quel tema Insomma Molto carino Non per tutti Sicuramente Ma molto carino Visto che sto per Realizzare il tour Della stanza Direi che Questo video Può finire qui Io vi ringrazio tantissimo Di aver visto questo video Non so Che cos'è Che sarà uscito fuori È un mix di cose È un mix di cose Comunque Grazie mille Per aver visualizzato Questo video Iscrivetevi al canale Se ancora non avete fatto E cliccate sulla campanina Per non perdervi Nessun video Io vi saluto Sono sonnissimo Guarda Sono proprio Sono sovido Sono stanco Sono gambe distrutte Ho camminato Voglio vedere Quanto ho camminato oggi Aspetta 17 chilometri Pensavo peggio 17 chilometri Ci sono state giornate Ci sono state giornate In Giappone In cui abbiamo camminato 30 a volte Quindi Nel senso Tanto ma non tantissimo E detto questo Io vi saluto Ciao Tutto a tutti Tutto a tutti